Medio Oriente, la tregua a Gaza scatta domani alle 10, accordo raggiunto tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco di almeno 4 giorni e il rilascio di 50 ostaggi a fronte di 150 detenuti palestinesi. Papa Francesco prega per israeliani e palestinesi le guerre producono solo sofferenza ribadito durante l'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro e ha ricevuto in Vaticano alcuni familiari di ostaggi israeliani e di palestinesi di Gaza. Dalla Germania arriva il via libera alla estradizione di Filippo Turetta che potrebbe arrivare in Italia già venerdì. Ho pensato di farla finita ma non ho avuto il coraggio e quanto ha confessato l'indagato davanti alla polizia tedesca. 60 anni fa la morte di John Fitzgerald Kennedy ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963. L'omicidio del 35esimo presidente degli Stati Uniti mentre transitava su un'auto scoperta. Le circostanze della sua morte non sono mai state del tutto chiarite. Edizione delle 20 e 30 ben trovati a tutti voi dalla redazione del TG2000. Apriamo questa edizione con il Medio Oriente perché la tregua c'è e partirà domani mattina. Il cessato del fuoco durerà quattro giorni, almeno 50 ostaggi israeliani verranno rilasciati. Sollievo dalla comunità internazionale la soddisfazione del presidente americano Biden. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Israele riceverà questa sera da Hamas la lista dei primi dieci ostaggi che saranno rilasciati, i cui nomi però saranno resi noti solo domani, una volta realmente liberati, per evitare, ha spiegato il governo, false speranze tra i familiari. L'accordo che ha avuto il Via Libera nella notte prevede una tregua di quattro giorni, dalle dieci di domani alle dieci di lunedì. In questo tempo Israele libererà 150 palestinesi, donne e bambini detenuti nelle proprie carceri. In cambio Hamas rilascerà 50 ostaggi, anche in questo caso donne e bambini. I loro nomi saranno comunicati di volta in volta la sera prima. Dei primi dieci ostaggi che dovrebbero essere consegnati domani mattina alle 12 ora locale ai funzionari della Croce Rossa dovrebbero far parte tre cittadine americane, tra loro Abigail Moridan, la bambina di tre anni a cui i terroristi di Hamas il 7 ottobre hanno ammazzato entrambi i genitori. Non solo, nell'accordo è previsto inoltre il passaggio ogni giorno di almeno 300 camion di aiuti, il divieto per i palestinesi sfollati al sud di tornare al nord della striscia e lo stop per sei ore al giorno del sorvolo dei droni spie israeliani. Medici della Croce Rossa dovranno inoltre poter visitare gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. A fine mese lo scambio potrebbe essere ripetuto con le stesse modalità, 4 giorni di tregua e 150 detenuti palestinesi contro 50 ostaggi israeliani. La tregua sarà osservata anche dalla Gihad Islamica, secondo gruppo islamista nella striscia di Gaza e dagli Hezbollah libanesi. Il governo israeliano ha ribadito però che questo non significa la fine dell'operazione militare su Gaza, siamo in guerra e continueremo finché otterremo la distruzione di Hamas, ha dichiarato infatti Benjamin Netanyahu. Francesco è tornato a pregare per israeliani e palestinesi. Oggi durante l'udienza generale le guerre producono solo sofferenza, ha ribadito il Papa. Sentiamo Rita Salerno. Perseverare nella preghiera per la pace nel mondo la voce del Papa ancora una volta si leva per invocare la riconciliazione tra israeliani e palestinesi dopo aver incontrato separatamente le due delegazioni di familiari di ostaggi a Gaza e di prigionieri in Israele. Le guerre fanno come questo, ma qui siamo andati oltre le guerre, questo non è guerra già, questo è terrorismo, per favore andiamo avanti per la pace. Un gesto di vicinanza spirituale, quello di Papa Francesco, che rilancia l'appello a continuare a pregare per la pace anche nella martoriata ucraina. E non dimentichiamo di perseverare nella preghiera per quanti soffrono a causa delle guerre in tante parti del mondo, specialmente per le care popolazioni dell'Ucraina, la martoriata ucraina di Israele e della Palestina. Le controversie vanno affrontate con il dialogo e con i negoziati e non con una montagna di morti da ambo le parti, sottolinea Francesco, in un video appello in spagnolo per la rete mondiale di preghiera in cui rilancia l'invito a supplicare Dio per la pace in terra santa. E Papa Francesco, prima dell'udienza, ha incontrato in Vaticano, in due momenti separati, un gruppo di familiari degli ostaggi sia israeliani che palestinesi. I servizi di Vito Rettorre e Cristiana Caricato. Da più di un mese i familiari degli ostaggi stanno chiedendo la liberazione dei loro parenti. Ci sono madri, sorelle, padri, mariti. Sono venuti a Roma per incontrare Papa Francesco, un incontro dove a parlare sono stati soprattutto gli sguardi, gli occhi sulle foto degli ostaggi di Hamas. Quest'uomo ha chiesto a Papa Francesco la benedizione dei suoi figli e dei nipoti ancora nelle mani dei terroristi. E dopo la vista in Vaticano, i familiari degli ostaggi hanno incontrato la stampa internazionale. Noi familiari degli ostaggi siamo immensamente grati a Papa Francesco per averci ascoltato. Siamo sicuri che ha fatto tutto il possibile e continuerà a farlo anche in futuro. Siamo tutti contrari alla guerra. Non vogliamo vittime innocenti da nessuna parte. Dal 7 ottobre non dormiamo più, mangiamo appena. Il nostro unico pensiero è rivolto ai nostri familiari che sono nelle mani dei terroristi di Hamas. A dirlo è Maya Kaplun. Suo padre è stato rapito e di lui non si hanno più notizie. Prende la parola alla mamma di Andrei Kosloff, uno dei 240 ostaggi rapiti da Hamas. So che mio figlio non farà parte dello scambio di prigionieri. Non so quanto tempo dovrò attendere. Sono distrutta. Quando potrò riabbracciare mio figlio? La fuga da Gaza in fiamme, gli amici rimasti nella parrocchia latina della Sacra Famiglia e il passaporto canadese che probabilmente le ha salvato la vita. Sahir racconta la sua odissea per raggiungere il valico di Raffa, il terrore sui volti dei bambini protetti solo da una bandiera bianca. È una delle storie che questa mattina Papa Francesco ha potuto ascoltare nel suo incontro con dieci palestinesi, accompagnati dal parroco di Betlemme, padre Gabriel Romanelli e da un sacerdote ortodosso. Mussulmani e cristiani che hanno condiviso con lui lacrime e perdite, come quelle di Cadeia, la cui famiglia è stata decimata, nove adulti e due bambini morti durante i bombardamenti. Lui ha pianto quando ha sentito le nostre storie. Noi gli abbiamo chiesto di venire a Gaza per vedere con i suoi occhi e lui ha detto che è una buona idea, che cercherà di venire. C'era davvero un'atmosfera di grande solidarietà, il Papa era davvero con noi, eravamo tutti profondamente colpiti, è stato davvero un incontro di supporto e solidarietà. Gaza e il suo inferno da oggi ancora di più nel cuore del Papa, costretto a dividersi per abbracciare il dolore di israeliani e palestinesi, lontani anche nel pianto e nella speranza. Ora tutti si concentrano sul prossimo cessate il fuoco. Abbiamo apprezzato il suo costante e continuo appello per un cessate il fuoco, speriamo che lui possa continuare a fare pressione per una tregua ed eventualmente per una pace giusta. Fra gli ostaggi di Hamas anche alcune delle storie che ci racconta la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Sono tutti arabi, regioni musulmane e cittadini israeliani, sono una delle comunità più povere, eppure ci sono anche i beduini del Negev, tra le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Sette gli ostaggi, di cui quattro minorenni, erano a lavoro in un'azienda agricola sul confine perché fanno lavori umili la maggioranza dei 300.000 beduini in Israele che vivono nel deserto del Negev. Stiamo facendo di tutto perché anche loro siano nel gruppo di quelli che saranno liberati, ci dice Sultan, che ha fondato un'associazione che supporta i beduini in quest'area. Una parte ha accettato i trasferisti nelle città, ma tanti altri non hanno voluto lasciare la loro terra e le loro tradizioni, villaggi sparsi nel deserto, non mappati sulle cartine ufficiali perché illegali per lo Stato di Israele. Sono dei 35 villaggi beduini qui nel deserto del Negev che non sono riconosciuti, sono illegali per lo Stato di Israele. Appena a tre chilometri di linea d'aria c'è il principale aeroporto militare da cui partono i RAI dell'aviazione israeliana per bombardare Gaza. Ed era l'aeroporto militare uno degli obiettivi dei missili di Hamas, esplosi invece nei villaggi beduini. Sono sette in tutto le vittime beduini dei razzi, altri 13 sono stati uccisi in attacco via terra di Hamas. Ad Albat un missile ha ucciso quattro ragazzini, due erano i figli di Ibrahim. Avevo tre figli ma ne è rimasto solo uno, ci racconta. Non avremmo mai immaginato di poter essere colpiti da un razzo. Nel villaggio vivono 120 persone, 15 famiglie dello stesso clan. Stiamo soffrendo molto ma non ce ne andremo. Viviamo anche prima in una situazione difficilissima, spiega Kail. Non abbiamo servizi, ci attacchiamo per avere acqua potabile ad altri. Abbiamo i pannelli solari, le nostre case sono tutte sotto minacce di demolizione. Ad aiutare le comunità beduini e diverse associazioni arabo-israeliane che hanno riaperto a dura il centro di emergenza attivato ai tempi del Covid. La guerra di Gaza ha aggravato la già precaria condizione sanitaria ed economica ma ha anche fatto ripartire in qualche modo la solidarietà. Ho ucciso Giulia, non ho avuto il coraggio di farla finita. Filippo Turetta accusato del sequestro e dell'omicidio di Giulia Cecchettina sarà presto estradato in Italia. Raffaella Frullone. Ho ammazzato la mia fidanzata. Sono le prime parole consegnate da Filippo Turetta ai poliziotti tedeschi lungo l'autostrada Berlino-Monaco dove la sua auto senza benzina si era fermata a fari spenti. Lo studente è sceso dalla sua punto con le mani alzate e ha confessato il delitto, poi ha aggiunto ho cercato di farla finita ma non ho avuto il coraggio. Non è tecnicamente una confessione valida per le indagini ma certamente la resa di un ragazzo ormai esausto in fuga da sette giorni e dopo mille chilometri solo in compagnia del suo animo tormentato su cui pesava un macigno che forse non poteva più portare. Filippo che dopo aver ucciso Giulia Cecchettina ha abbandonato il suo corpo vicino al lago di Bracis sarà presto estradato in Italia mentre i primi rilievi sulla sua auto hanno portato al ritrovamento di un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri, dei guanti e contanti per 300 euro. Non è escluso che possa tornare in Italia già in settimana, dovrà rispondere di sequestro di persona e omicidio aggravato. Intanto a Vigonovo il paese di Giulia Cecchettina è il momento del lutto e delle lacrime. Per il funerale bisognerà attendere l'autopsia ma sarà celebrato con ogni probabilità Saonara in provincia di Padova, comune originario dei Cecchettin e Giulia. Sarà poi tumulata nello stesso cimitero in cui riposa la mamma morta un anno fa dopo una lunga malattia. E a Milano una ragazza è stata salvata, aveva fatto il gesto di aiuto antiviolenza, c'è stato chi l'ha riconosciuto e l'ha messa così in salvo. Una storia che ci racconta Luciano Piscaglia. È un gesto semplice ma nella notte milanese ha salvato da una aggressione una ragazza di 19 anni. La giovane che dopo un concerto si era aggregata ad un gruppo di coetanei a tarda sera era rimasta in compagnia di un solo giovane straniero che avrebbe tentato un approccio violento. Impaurita la giovane l'ha seguito ma giunta in via Torino poco lontano da piazza del Duomo con la scusa di andare in bagno è entrata in un locale ed ha fatto il segno antiviolenza. Una cameriera si è accorta del gesto ed ha avvertito la polizia. Questo è un gesto che si è diffuso e in quanto tale viene recepito come tale come richiesta di aiuto e pertanto l'intervento è stato tempestivo. La vittima che ha parlato con i primi operatori ha mostrato paura e ha descritto subito ciò che le era accaduto. Per fortuna l'intervento a nostro avviso ha prevenuto conseguenze anche peggiori. Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per la protagonista della vicenda grazie alla sua lucidità nel chiedere aiuto e alla cameriera che ha saputo cogliere il suo segnale. Un gesto può essere assolutamente utile se anche dall'altra parte però si è disposto ad aiutare. Che anche gli altri possano capirlo nel momento in cui io dovessi mai averne bisogno. Stop alla violenza sulle donne, ignobile fenomeno tuttora tristemente presente. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione di partecipanti al Women Economic Forum. E la premiera Meloni a Berlino per un bilaterale con il cancelliere Scholz. Firmato il piano d'azione Italia-Germania sul patto di stabilità. Tanti temi del confronto come ci racconta Augusto Cantelmi. A tutto campo sul tavolo del bilaterale tra Italia e Germania e Berlino tutti i dossier internazionali a cominciare dai conflitti al centro della videoconferenza del G20 virtuale sempre nella capitale tedesca. E mentre il presidente russo Putin ha preso la parola, la premier Meloni e il cancelliere tedesco Scholz hanno ascoltato con attenzione. Germania in Italia sono stati finora tre paesi che con più convinzione hanno sostenuto la causa ucraina. E la stessa Meloni nel suo intervento lo ha ribadito. Se la Russia vuole la pace si ritiri. Se si volesse la pace la cosa più facile da fare per ottenerla immediatamente sarebbe ritirare le proprie truppe di invasione dal territorio ucraino. Nel vertice italo-tedesco spasi invece soprattutto all'economia. Nel vertice allargato ai delegati delle aziende italiane e tedesche, Meloni e Scholz firmano un piano d'azione per la cooperazione strategica tra i due governi in tutti i settori. E come abbiamo ascoltato il vertice italo-tedesco ha avuto tra i tanti temi di confronto anche il sostegno all'Ucraina e al G20 a sorpresa Putin per la prima volta ha dichiarato la guerra in Ucraina è una tragedia, bisogna pensare a come mettervi fine. Marco Burini. Capisco che questa guerra, la perdita di vite umane, non può che scioccare. Ma che dire del sanguinoso colpo di Stato in Ucraina nel 2014, seguito dalla guerra del regime di Kiev contro il proprio popolo nel Donbass, non è scioccante? E l'eliminazione di civili in Palestina, a Gaza, non è scioccante? Punzecchiato da alcuni capi di Stato in videocollegamento come lui per il G20, Putin per l'ennesima volta prova a girare la frittata. Certo, bisogna pensare a come mettere fine a questa tragedia, concede, salvo aggiungere che la Russia non ha mai rifiutato i negoziati di pace, è l'Ucraina che si è ritirata. La solita propaganda, specialità della casa. Mentre in Europa ci pensa Orban a dargli una mano. Il premier ha chiesto agli ungheresi se vale proprio la pena dare altri aiuti all'Ucraina e la comunicazione la controlla lui, minacciando di stoppare l'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione Europea, mentre Bruxelles vara un altro pacchetto di aiuti da un miliardo e mezzo. Intanto arriva il terzo inverno di guerra. A Kiev è caduta la neve, fa freddo. Gli abitanti della capitale temono attacchi alle centrali energetiche. Mosca non ha mai smesso di colpire le infrastrutture civili e più passa il tempo, più aumentano frustrazione e stanchezza tra gli ucraini. Putin invece non ha fretta, ha ancora tanti uomini da mandare al massacro. Torniamo in Italia perché oggi si è celebrata la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. È stata istituita nel 2015, sette anni dopo il crollo del soffitto al liceo Darwin di Rivoli a Torino con la morte dello studente Vito Scaffidi. Antonella Mazzateruel. Con una staffetta in bicicletta tra diverse scuole, questa mattina gli studenti a Torino hanno ricordato il 17enne Vito Scaffidi ucciso sui banchi di scuola a causa del crollo del controsoffitto nel liceo Darwin di Rivoli nel 2008, il 22 novembre, data che da allora con una legge del 2015 è diventata la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Nel nostro paese il 30% delle scuole, della solidarietà delle scuole, avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria importante. Quindi molte scuole, palestre inagibili, aule inagibili, anche coettili, quindi diciamo interno e esterno della scuola. Secondo dati INAIL nel 2022 sono state poco più di 61.000 le denunce di infortuni presentate da studenti delle scuole statali, oltre il 52% in più rispetto al 2021. È concentrato nelle regioni del nord-ovest il maggior numero di denunce. In totale tra le lesioni si registra una prevalenza di russazioni e distorsioni, cifre che si avvicinano a quelle pre-covid, addirittura superate per quanto riguarda gli infortuni dei docenti. E sono già 24 intanto i crolli in istituti scolastici quest'anno, sottolinea Cittadinanza Attiva, che al Ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, chiede di convocare al più presto l'Osservatorio Nazionale sull'edilizia scolastica, che negli ultimi due anni non si è mai riunito. Il 22 novembre del 1963, la morte di John Fitzgerald Kennedy, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, è ucciso a Dallas. Le circostanze della sua morte non sono mai state del tutto chiarite. Nell'anniversario dei 60 anni, ascoltiamo il commento del giornalista Gianni Riotta. Era il primo presidente cattolico, era il più giovane presidente eletto ed è stato il più giovane presidente a morire alla Casa Bianca. Di lui rimane il mito, rimane il mito della nuova frontiera, rimane il mito del mandare l'uomo sulla luna, ma il mito però nuoce alla vera memoria storica del presidente Kennedy, che era qualcosa di cui il nostro tempo avrebbe straordinario bisogno. Cioè era un progressista, era un liberale, era un cattolico impegnato, che però non era un ideologo, che però non odiava gli avversari. Quello che veramente ci manca del presidente Kennedy è questo senso di pragmatismo della pace, questo senso di pragmatismo del progresso, questo avanzare ma capire che non si avanza attraverso l'ideologia, ma si avanza attraverso la costruzione di una buona politica giorno per giorno. Ed è tutto, vi lascio alla Meteo e poi a Sol con l'intervista a Massimo Introvigne. Grazie al vostro tempo e buona serata, arrivederci.